Musica Nuovo appuntamento con Linea Comune, siamo sempre qui nella casa comunale di Battipaglia, questa volta in compagnia della sindaca, come sempre ben ritrovata, e invece a suo fianco il vice sindaco Stefano Romano. Io comincerò proprio direttamente col vice sindaco. Sindaca, diamo la precedenza agli uomini ogni tanto, no? Ah, di tu. Eh sì, per la par condicio diamo la precedenza agli uomini. Allora, vice sindaco, sicuramente un ruolo importante quello del vice, ma un ruolo importante anche per quanto riguarda le tante deleghe che le sono state attribuite. Quella al personale, agli affari generali, al rapporto con Alba, insomma, quali sono effettivamente le prospettive per queste deleghe e quali sono gli obiettivi che si porrà, che si pone oggi? Innanzitutto tanto, tanto, tanto entusiasmo per la nuova carica ricevuta grazie alla sindaca e la fiducia che mi è stata attribuita, soprattutto anche per le deleghe, le molte deleghe attribuite. Il rapporto con Alba è il rapporto amministrativo con Alba, non Alba per intero, ma il rapporto amministrativo con Alba, così come le società partecipate, quindi Cofas e altre società partecipate di cui è costituito il nostro comune. Tanto entusiasmo, quindi tanti obiettivi da prefiggersi, che di volta in volta la politica deciderà, questa maggioranza, deciderà di attribuire ad ogni assessorato. Quindi noi raggiungeremo di volta in volta l'obiettivo che la politica di volta in volta tenterà di seguire il nostro programma politico, che è quello che conoscete su tutti che è stato depositato alla vittoria delle nostre elezioni, quindi quando ci siamo presentati alle elezioni. Grande responsabilità perché vado a ereditare quello che è un lavoro dei precedenti assessori, che comunque ringrazio perché hanno spianato la strada, ci hanno dato un'autostrada da seguire e migliorare certamente, perché questa città da questo momento in poi, anche grazie al nostro nuovo apporto, dovrà risorgere come una fenice, dovrà appunto migliorare di molto. Quindi tanta responsabilità. Chi sbaglia paga e se ne va. Così ci dice la sindaca tutti i giorni. Sicuramente il rapporto con Alba è forse uno di quelle mansioni più delicate, perché si è comunque discusso tanto, perché comunque si sono avvicendati diversi responsabili. Insomma, come farà a mantenere la quadra? Non si tratta di mantenere una quadra, si tratta di affidarsi ad un buon amministratore di Alba e noi come comune, come socio, controllare che questa società vada bene, venga gestita bene. Chi ha la responsabilità di Alba è un amministratore. Deve essere gestita da un bravo dirigente, da un dirigente apicale. Noi siamo lì come socio a chiedere che il servizio venga resa alla cittadinanza, perché paghiamo per questo servizio. Sindaca, un avvicendamento di assessori che ha fatto, e di vice sindaco in questo caso, che ha fatto discutere. No, vabbè, ma sappiamo che ai tempi dei social la discussione è all'ordine del giorno, le polemiche sono all'ordine del giorno, però diciamo che a due anni dall'inizio di un'amministrazione è abbastanza fisiologico fare dei cambi. Come mai questa scelta di individuare, cioè perché come mai ha scelto determinate persone per ricoprire questi incarichi, quindi le motivazioni? E come sarà questa volta? Innanzitutto, per la prima volta che mi intervisti e parlo di questo argomento, volevo ringraziare coloro che hanno contribuito in questi due anni a portare avanti parte del nostro programma, e quindi gli assessori uscenti. È stato un po' brutto il modo con cui si è chiusa questa parentesi, sicuramente non voluta da me in questo modo. Come tu hai detto, è normale che in qualsiasi amministrazione c'è un avvicendamento, avevamo detto che a metà mandato ci sarebbe stata una rivisitazione, e va bene, attualmente, voglio dire, ci troviamo al fatto stesso che abbiamo aspettato un po' di tempo, perché le nostre due nomine, le nomine di Etica e Concecilia, cioè finalmente il movimento viene rappresentato in giunta e mi sembra giusto, un movimento che ha portato insieme agli altri alleati di questo sindaco alla vittoria, penso che era giusto che avesse comunque una rappresentanza in giunta e era anche giusto che, voglio dire, si ricoprisse a questo punto la carica di vice sindaco, che non era l'obiettivo nostro, era semplicemente avere una rappresentanza. Il movimento ha deciso, su una rossa di nomi, di far scorrere la lista in modo che si desse anche la possibilità a tutti gli altri che sono storici, perché entra Antonietta Petrosino, entra Michele Alessio, che si erano già candidati con me nel 2009, quindi ovviamente tu vedi le persone che seguono le due figure. E quindi Pietro Cerullo andrà a ricoprire il ruolo dell'assessorato ai lavori pubblici, manutenzione, piccoli problemi dei quartieri e soprattutto anche lo sport, visto la sua storia pregressa, anche perché in questi due anni si è anche interessato dei rapporti con le società sportive. E Romano, che abbiamo visto, ricoprirà il ruolo di vice sindaco. E con le deleghe di un assessore che veramente ha dato un noto contributo, voglio ricordare Laura Toriello, il collega che ha messo mano anche al regolamento dell'avvocatura. E quindi noi siamo riconoscenti a Toriello come agli altri due assessori, agli altri tre, Michele Gioia nelle politiche sociali e politiche scolastiche, e la Francesca Napoli, attività produttive. Oltretutto Francesca aveva iniziato anche un buon rapporto con le persone mercatari, io voglio tranquillizzare loro che il lavoro verrà continuato sulla stessa linea, non è che si inizia da capo da quando lasciate. E vabbè, poi sappiamo benissimo la figura di Ugo, che oltretutto è una persona che rimane un amico, è una persona con cui stimo. Cioè la politica non deve rompere quelli che possono essere i rapporti personali, che ho ben, voglio dire, conservato con tutti e quattro gli assessori. Però di fatto è così, quindi poi non eravamo un po' pronti la scelta di nove nomine, è chiaro che quando lasci dei posti vacanti c'è il problema di chi deve succedere, anche di chi deve portare avanti un discorso lasciato, lasciato a metà. Direi che mentre prima, le scelte saranno in parte scelte tecniche, in parte scelte politiche, perché si è sempre lamentato un po' la carenza che ci è stata sempre contestata del rapporto tra Giunda e consiglieri comunali. Quindi anche la scelta di individuare dei consiglieri comunali è stata dettata anche dal buon rapporto che i due nuovi assessori hanno con il consiglio comunale. Non solo, ma quello che ho preteso, ogni assessore sarà coadiuvato da due consiglieri comunali. Quindi verranno poi coinvolti tutti. Perché le tele che sono enormi, quindi non si può pensare che un assessore possa coprire tutto ciò che c'è da coprire su questo comune. Quindi se bisogna dare un cambio, bisogna continuare con una marcia in più, come qualcuno diceva, bisogna che tutti diano il contributo. Non è più ammissibile che io vengo in consiglio, partecipo alla riunione, ma devo lavorare per contribuire a far sì che la delega assessoriata sia rispettata, non dico nel 100% dei casi, ma almeno che sia in gran parte il lavoro portato a termine, il programma portato a termine. Quindi attiveremo anche le collaborazioni esterne sicuramente. E come diceva prima il Vice Sindaco, sono stata un po' drastica, nel senso che bisognerà innanzitutto riunioni in cui maggioranza e assessori dovranno essere presenti contemporaneamente, dare degli obiettivi e assessori che è il braccio operativo del Consiglio e del Sindaco e valutare di volta in volta se questi obiettivi, se questi traguardi sono stati raggiunti. Perché è ovvio che se non vengono raggiunti, noi diamo delle date precise, non dico che devi raggiungere tutto, ma se in quei 8 mesi non hai portato a casa dei risultati, lo sanno tutti, si cambia registro, praticamente l'assessore dovrà essere visto. Quindi attenzione alla scelta dei nomi da dare, perché oggi è stato un articolo bruttissimo sul giornale, un titolo, non è che tu valuti una persona per il lavoro o per l'attività che svolgi, perché io posso anche non essere laureato, ma magari avere più capacità, soprattutto nel commercio, nei rapporti con le attività produttive. È un nome veritiero quello di oggi? Perché è un nome possibile, quindi perché voglio dire il mio lavoro mi porta a avere contatti quante persone hanno raggiunto traguardi importanti partendo dal niente. Quindi questo articolo è veramente bruttissimo. Io non lo so chi li fa, gli articoli, ma spesso la città succede che... Vabbè, questi poi sono problemi... Il titolo effettivamente a volte viene fatto direttamente in redazione. No, il titolo, perché l'articolo se tu lo leggi, ogni volta che ci sono stati questi disguidi sui titoli, poi devi leggere l'articolo per capire che il titolo non ha niente a che vedere. E di fatto il titolo non viene mai scritto dal giornalista. C'è qualcuno in redazione che fa il titolo magari perché loro fanno il discorso che deve essere venduto il giornale. Vabbè, questi sono problemi loro, però... Molti leggono i titoli, il mio padre per esempio legge il titolo, mi viene... E allora, è chiaro, io spero che tutti leggono invece poi l'articolo. Sicuramente, voglio dire, le figure si valuteranno per quello che fanno, per quella che è la loro... Quindi quali sono le idee che è ancora da assegnare, Sindaco? Dunque, poi c'è Carolina Vicinanza, sicuramente, io voglio precisare che è una nonina condivisa. Carolina la conosco personalmente, è un'ottima professionista, anche qui all'interno del palazzo ha trovato molta, voglio dire, soddisfazione. Carolina mi serviva da staccare l'assessorato all'ambiente dall'assessorato all'urbanistica perché erano due delega molto importanti che gestiva la sola assessore vecchio e quindi Carolina ha un master in ingegneria ambientale e sanitaria per cui, praticamente, mi ha convinto come professionista per dare questa cosa. Poi, voglio dire, è chiaro che io vorrei creare una squadra, non è che le delega devono essere rigide molte delega si incrociano spesso, lui per esempio parlava di rapporti amministrativi con Alba Carolina ovviamente avrà, per quanto riguarda l'ambiente, lo stesso rapporti con Alba e lo stesso la Catarozzo per quanto riguarda la parte bilancio, rapporti con Alba quindi si deve quasi creare una task force, un gruppo che affronti solo il discorso Alba. Quindi, ripeto, ringrazio gli assessori uscenti con cui spero di avere e continuare sempre in un ottimo rapporto di stima e mettiamo alla prova i nuovi assessori. Allora, a proposito di ambiente, beh, devo dire che sicuramente un tassello positivo quest'anno è quello che sentiamo un po' meno i miasmi, no? Ultimamente, diciamo, rispetto allo scorso anno che era tutti i giorni quotidianamente. Un po' meno perché si sente solo di notte il puzzato di bruciato qualche volta, infatti i nuovi rilevatori centraline che abbiamo messo grazie alla collaborazione con Rotary che ci danno ogni tre minuti dei risultati, quello che evidenziano che sicuramente non c'è maggiore inquinamento rispetto a quello stabilito ma che di notte aumentano. E quindi hanno cambiato i denti. Quindi c'è qualcuno che di notte brucia e stiamo individuando da dove viene. Però è un odore diverso. Io ricordo che l'anno scorso, grazie a degli abitanti di Belvedere, riuscimmo a individuare una fabbrica di notte. Io voglio dire, se qualcuno ci deve segnalare, però neanche dobbiamo essere... No, beh, certo. Quindi stiamo valutando il territorio per individuare chi è che... Però, diciamo, questa è una puzza che estende essenzialmente nella zona industriale. Per quanto riguarda la riduzione dei miasmi, sì, hanno chiuso delle attività innanzitutto che creavano comunque miasmi. E poi c'è da dire che su eboli sono stati fatti dei lavori, degli interventi su ripetute segnalazioni, effettivamente sono stati fatti degli interventi, soprattutto sui filtri, su come viene gestito l'umido e sul tempo di stazionamento all'interno delle biocele. Quindi... A proposito di raccolta differenziata, c'è un po' di lentezza in questi giorni? Io voglio scusarmi con i cittadini perché dicono non venite a raccogliere. La raccolta è comunque rallentata. Ieri sono stata a Lanci, c'era il sindaco di Nocera che si lamentava. Io ho detto, ma come fai tu con l'immondizia? C'è Cecilia, io me la tengo per le strade. E effettivamente l'altro giorno stavo a Ponte Cagnano, c'erano montoni di sacchetti non ritirati perché il problema non è Battipaglia solo, ma è l'intera provincia che non riesce a scaricare nello stile. Poi c'è stato quell'incendio che per fortuna sembrava peggio. Sì, sì, infatti abbiamo approfondito l'argomento. Addirittura fino al 13 non sapevamo dove andare a mettere l'immondizia. Invece già ieri è aperto, stamattina abbiamo scaricato, abbiamo sei scarrabili che abbiamo messo nell'isola ecologica per cui quello che riusciamo a raccogliere, non al 100%, ma non abbiamo lasciato almeno nel centro immondizia per la strada riusciamo a reggere. E quindi noi rispetto agli altri comuni siamo comunque più fortunati, tra virgolette se si può dire, se non altro avendo lo stir sul nostro territorio almeno abbiamo la precedenza sugli altri, quindi riusciamo a scaricare. Quindi un poco di pazienza, però su questo argomento, se mi permetti, vorrei aggiungere il fatto di quello che si è venuto a sapere di almeno tre paesi dove era stata prevista la trasformazione dello stir in sito di compostaggio e pare che la regione abbia evitato questo. non tenendo conto della nostra lotta, delle nostre richieste. Ieri sono stata a Lanci, faccio parte del direttivo del Lanci, c'erano le lamentele di molti sindaci, si è parlato proprio del caso Battipaglia, di queste decisioni che spesso vengono dall'alto e si è parlato di autonomia dei territori da parte di molti sindaci lamentele. a breve avremo un nuovo incontro a Lanci prima della fine dell'estate, entro luglio, da qui a 15 giorni, dove all'ordine del giorno c'è appunto questo problema importante, riventicazione, riventicare il ruolo dei sindaci nel governo del territorio, di non accettare queste decisioni che vengono dall'alto e soprattutto questioni di fiuti. Io già ho chiesto e ho scritto alla regione per avere un incontro perché praticamente, nonostante una città si è mossa in terra e non solo, tutta la piana del Sele, 10.000 persone scendono in piazza, è come se questo comune non contasse. Quindi faremo l'incontro a Lanci e poi anche Lanci chiederà alla regione un incontro su un tavolo istituzionale, sindaci sulla questione di fiuti perché è come la sensazione si stesse ritornando a 20 anni fa quando c'eravamo con l'emergenza di fiuti e questa cosa non deve assolutamente venire e vogliamo assolutamente riventicare il ruolo di sindaco e che la regione ascolti il territorio. Vice sindaco, terreni confiscati alla mafia, alla camorra, via Catania, housing sociale e di che cosa si tratta? Allora, si tratta di una delibera a cui ha lavorato il nostro assessore Stefania Vecchio ha lavorato anche questa notte perché è stata una delibera di partenariato della partecipazione del comune di Battipaglia insieme al Polo della Carità e riguarda appunto un progetto molto importante di housing sociale laddove si costruiranno delle appartamenti che ospiteranno le famiglie in emergenza abitativa quindi sulla stregua di chiunque deve avere un tetto sulla propria testa per un periodo però limitato laddove si aggiusti la situazione familiare e si ruoti e quindi non diventi un appartamento per tutta la vita quindi un'emergenza abitativa appunto grazie al Polo della Calità e al partenariato che il comune di Battipaglia dà oggi in giunta soprattutto grazie all'assessore Vecchio che si è occupata del tema. Tra le delega importanti che ha sicuramente una importante è quella del personale perché? Perché comunque all'interno del comune ci sono tante competenze tante professionalità e devo dire che la sindaca sin dal primo giorno in cui si è insediata ha cercato di fare in modo che venissero fuori insomma che molto spesso nei comuni si sa a volte i più bravi lavorano meno i meno bravi lavorano di più insomma quindi come pensa di riorganizzare oppure già l'organico è perfetto? L'organico non è mai perfetto in qualsiasi ente o in qualsiasi azienda va semplicemente spronato dapprima il dirigente ma il dirigente sa quali sono i suoi elementi sa quali lavorano e quali non lavorano vanno spronati nel senso che il dirigente stesso che indicherà quelle che sono le lacune dell'ente, le lacune dell'organizzazione dell'ufficio e vanno efficientati, vanno cioè spronati al lavoro, stimolati al lavoro quindi magari modificando quelli che sono gli obiettivi o dando singoli obiettivi di volta in volta da raggiungere da dove non raggiunti purtroppo ahimè l'unica mannaia è il provvedimento disciplinare Per quanto riguarda invece i bandi, in molti comuni si sono organizzati che erano dei veri e propri uffici che si dedicano alla realizzazione di bandi europei per partecipare ai famosi bandi europei per riuscire ad ottenere dei fondi insomma per poter poi reinvestirli sulla città questo è una cosa possibile? Questo è il talone di Achille di tutti gli enti comunali certo, l'intercettazione dei fondi europei, dei fondi regionali è uno dei temi più importanti si pensa di poter sfruttare anche in questo senso il servizio civile creare una squadra di volontari che vengono qui quindi il problema dell'intercettazione del fondo qual è? stare le ore davanti al computer ma bastano due o tre ore davanti al computer è intercettare il fondo, passarlo all'ufficio di competenza si crea il progetto e si manda per l'intercettazione di quel fondo lì quindi è il tempo da dedicare davanti al computer per l'intercettazione ce ne vuole tantissimo lo possiamo fare o tramite servizio civile o tramite l'individuazione di una risorsa all'interno degli uffici che dedica un'ora di tempo tanto ci vuole a fine giornata per vedere sul BURC quali sono i fondi usciti o disponibili a disposizione per i comuni quindi insomma cercherete di muovermi in questo senso certo, è essenziale anche perché ormai da nessun'altra parte se non sono solo bandi regionali oppure fondi europei questo è l'unico modo per la mannaia che ci dà la legislazione del pareggio di bilancia per uscire fuori dall'impasto Sindaco, chiudiamo con una delibera che riguarda la manutenzione delle strade che è una cosa richiesta da tutti i cittadini ovviamente forse non coinvolgerà tutte le strade ma almeno le più importanti Sì, finalmente sono pronti oggi 3-5 minuti finisco con te e andiamo in giunta e questa è la delibera che darà il via per la manutenzione delle strade che riguarda essenzialmente, l'abbiamo detto più volte via del Centenario, via Carbone, via Ionio una parte del quartiere Sant'Anna almeno si inizia e poi c'è via D'Ansilio è chiaro, non potremmo fare tutta la strada perché ci vorrebbero milioni di euro però delle fasce ampie saranno fatte e per il momento facciamo questo poi si vedrà il seguito e quindi tutto sta anche un'altra cosa che ti voglio dire circa un mese fa ma non è passato come notizia anche in regione è stato approvato i famosi progetti PIX e i fondi che dovrebbero arrivare sono 12 milioni e 8 per la riqualificazione del centro storico quindi quelle strade lì probabilmente le potremmo recuperare quando andremo a mettere mano alla pavimentazione che coinvolgerà Piazza Petrone fino a Piazza della Repubblica quindi di fascimento della piazza anche perché chiariamo il fatto che quando i fondi arrivano per una determinata cosa deve essere utilizzato per quello che a volte arrivano le polemiche invece di fare quello perché non fate? perché il bando è per quello bisogna fare per quello e allora noi per il momento ci diamo appuntamento alla prossima settimana conosceremo, mi auguro, settimana dopo settimana anche gli altri nuovi assessori per capire come abbiamo fatto con il Vice Sindaco quali obiettivi si prefissano io penso che sabato mattina dovremmo fare conferenza stampa e presentare la squadra quindi ci vedremo sicuramente ci vedremo sicuramente però poi settimana per settimana dobbiamo approfondire Sindaca dobbiamo capire anche perché dobbiamo prefissare gli obiettivi se no poi come facciamo a sapere se sono stati raggiunti grazie al Vice Sindaco Stefano Romano e grazie come sempre alla Sindaca e l'appuntamento è sempre per la prossima settimana almeno per tutto il mese di luglio poi magari agosto sospenderemo e ci rivediamo settimana prossima giovedì sempre alla stessa ora grazie a tutti grazie a tutti